E' un mondo fantastico, esiste davvero, un pianeta in orbita, tra la terra e il cielo, esiste davvero, esiste davvero, un mondo fantastico, esiste davvero. E' una nuova fantastica mattina, Leolandia, il magico mondo, ma qualcosa sta accadendo. Dai Mia, che tra poco tocca a noi, quanto ti manca? Mi dispiace, ma non posso. Perché? Che cosa ti succede? Niente. Mia, lo sai quanto è importante la nostra presenza qui a Leolandia? Siamo i padroni di casa, i primi esploratori di questo magnifico parco. Non puoi mancare, tutti si aspettano di vederci insieme. Non fa niente, vai solo tu. E adesso lascia, mi voglio stare da sola per un po'. Che cosa posso fare per convincere Mia? Che cosa le sarà successo? Perché non vuole uscire? Che cos'è? Si tratta di una foglia strocca! Non pensavo esistessero davvero! Vediamo che cosa c'è scritto. Ogni volta che servirà aiuto, un gruppo di amici è presto riunito. Ora è tempo di svelare dove la si può trovare. Sopra il piccolo ruscello passa un breve ponticello. Dieci passi verso il tronco e la troverai di fianco. Il ruscello, il ponticello... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci... Eccola! Ma allora, se la suono qualcuno arriverà ad aiutarmi? Non mi resta che scoprirlo. Dobbiamo spegnere il suono! Sì, abbiamo spesso l'incendio! Siamo bravissimi! Sì! Adesso che giostra facciamo? Facciamo quella del gorilla! Lo so dov'è! È bellissima! Allora facci strada! Andiamo! Sì! Avete sentito anche voi? Sembra una campanella! Proviene da questa parte, andiamo! Allora funziona! La foglia strocca non sbaglia mai! Abbiamo sentito il suono della campanella! Lo abbiamo seguito e siamo arrivati fino a qui! Certo! Allora siete per forza voi i miei aiutanti! Altrimenti non avreste potuto sentire la campanella magica! Ho bisogno di voi! Mia non vuole ballare con me! Ti aiutiamo noi, Leo! Dov'è Mia adesso? Venite con me! Seguitemi! Io vi aspetto qui! Mia! Ti ho portato degli amici! Possiamo entrare? No, scusatemi! Ma voglio restare da sola! Si può sapere che cosa è successo? Avete visto? È un disastro! Non posso ballare senza Mia! Come facciamo? Mia! Perché non vuoi uscire? Raccontaci cosa è successo! Hai paura di non ricordarti i passi, per caso? No, no! I passi li so benissimo! Allora qual è il problema? Sono brutta! Che cosa dici? Non è vero! Mia, sei bellissima! Sei meravigliosa, Mia! Non dire sciocchette! Ma come ti vengono in mente certe cose? Grazie, ma non è vero! Certo che è vero! Non è vero! Mi sta tutto male! Le principesse sono sempre splendide e piene di accessori bellissimi! Io invece sono solo una bambina con un semplice vestitino! Io potrei darle questi! E io questo! E io... Questi bellissimi e colorati braccialetti! Io penso che siano tutti accessori favolosi! Le piaceranno tantissimo! Mia! I nostri amici vorrebbero darti qualcosa di molto speciale! Wow! Sono bellissimi! Sono per me! Grazie! Adesso però ci vuole il vestito giusto! Perché non metti questo? Anche questo è bellissimo! A me piace di più questo! Come sta? Sei fantastica! I vostri accessori le stanno davvero bene! Sai, Leo! Stavo pensando che sarebbe bellissimo se anche i nostri amici ballassero con noi! A voi piacerebbe? Sì! E allora, cosa stiamo aspettando? Andiamo a ballare! Ti faccio! E scrivete! Oh! 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 Está la標anya! Fatti in un mare di fate e di pirati Di gioia, di emozioni, di giorni stradunati Ti sentirai invincibile come in un libro di favole È un mondo fantastico Che esiste davvero Un pianeta in orbita Tra la terra e il cielo È stato bellissimo ballare insieme Il ballo è venuto davvero bene Ed è tutto merito vostro Grazie amici Esiste davvero Un mondo fantastico Leolandia Evviva Leolandia e tutti i nostri amici!